Sì, grazie per la linea. Sono dati purtroppo allarmanti quelli di oggi per quel che riguarda il bollettino. 509 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, il dato più alto dal giorno di giovedì, dal mese di novembre. I tamponi 4.957 quelli molecolari, oltre 3.000, 3.114 i test rapidi antigenici. Quindi questo significa che la percentuale positivi su tamponi si attesta al 6,3%. Tanti però anche i guariti, 178 persone, 4 le persone decedute. In totale, dall'inizio della pandemia, sono diventate le vittime per Covid-19502. Sale purtroppo anche la pressione ospedaliera, 461 i pazienti in area medica, più 8 rispetto a ieri, più 1 in terapia intensiva, 49 adesso sono in totale. Infine, oltre 10.000, 10.042 i pazienti in isolamento domiciliare. Bene, guidati dalla telecamera di Diego Martelli, ci troviamo a Torre Vecchia Teatina, dove è in pieno svolgimento, e lo sarà anche domani, lo screening di massa organizzato dal Comune insieme alla ASL. Vicino a me c'è il sindaco, Francesco Seccia. Come sta andando e soprattutto se c'è qualcosa che vi preoccupa? Intanto è un sindaco, vediamo, in piena operatività. Innanzitutto buonasera a tutti gli spettatori di Redeotto. Permettetevi di ringraziare la ASL, la Prefettura, che hanno permesso la realizzazione di questa iniziativa, e i volontari della protezione civile Giustino Romano, oltre al personale sanitario volontario. Sicuramente questo è un modo per porre un freno alla diffusione del coronavirus. Io spero che i tamponi di massa, insieme anche alle vaccinazioni e ovviamente al rispetto delle regole, ci permettano di migliorare quelli che sono i dati, come ha detto lei, preoccupanti. La popolazione di Torravecchia ha risposto in maniera molto positiva. Abbiamo fatto 700 tamponi circa, con 9 casi di positività. Devo dire che la situazione è abbastanza fluida, scorre abbastanza bene. Ma come amministratore, come sindaco, come capo di questa comunità, cosa la preoccupa in maniera particolare? C'è qualcosa? Sicuramente quello che mi preoccupa maggiormente è i numeri. Anche qui a Torravecchia purtroppo adesso stiamo affrontando un secondo rialzo dei casi. Siamo circa a 45 casi sul territorio, che per una popolazione di 4.200 abitanti sicuramente rappresenta un punto abbastanza cruciale. Quindi benvengano questi screening, benvenga la possibilità di cercare di contenere ulteriormente la diffusione della pandemia. Perfetto, grazie di cuore alla sindaco di Torravecchia Tatina, Francesco Seccia. Da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli è tutto. Restituisco la linea allo studio, a meno che non ci siano altre domande. No Paolo, no. Buon lavoro, grazie.